Toleranza finita per la sosta selvaggia nella centrale piazza Gribaldi di Sulmona. Annunciare il nuovo giro di vite, la polizia locale, coordinata dal comandante dirigente Domenico Giannetta. Dopo la riapertura del parcheggio coperto di Santa Chiara, che li sarà la giornata di giovedì santo, l'anello interno della piazza risulta ancora invaso dalle auto. Un fenomeno che dello scorso dicembre è diventato abituale per i sulmonesi, dal momento che il comune, per tamponare l'emergenza parcheggio, aveva realizzato delle strisce blu a spina di pesce per ampliare gli stali a disposizione. Tuttavia, con la rimessa in funzione del silos, l'emergenza è rientrata, tanto che la polizia locale ha provveduto nei giorni scorsi a ripristinare i diveti di sosta, a rimuovere le strisce blu. La segnaletica, insomma, è stata adeguata alle nuove disposizioni, ma la sosta selvaggia non si è fermata. Per questo, dal comando, le vigili urbani annunciano multe e controlli a partire da oggi. In questi giorni stiamo facendo servizi di prevenzione e di controllo con la pattuglia. monitorando i vari movimenti per consentire un minimo di rodaggio e elasticità, ma da oggi ripartiremo con le attività ordinarie, spiegano dalla polizia locale. Intanto, con il ripristino dell'assetto originario della piazza, la sosta costerà di più, passerà da 1 a 2 o 2,50 euro l'ora, la cifra esatta ancora da stabilire, fatta eccezione ai primi 15 minuti che probabilmente saranno gratis. La logica è chiara, garantire le soste di emergenza e rapide, compreso il caffè a volo, ma far pesare l'uso della piazza per parcheggio a lunga sosta. Le nuove regole, le nuove tariffe, tuttavia, devono ancora essere definite. Al momento restano in vigore i costi tradizionali. Altre novità saranno previste per la gestione complessiva delle soste in città, i cui particolari andranno a essere definiti per il project financing in corso per la gestione del servizio dentro e fuori il parcheggio di Santa Chiara.